Venerdì sera alla Pieve di Zignago è stato organizzato un bellissimo concerto di Natale e al termine ci sarà anche un momento conviviale, un bel modo per tutta una comunità per ritrovarsi e anche per farsi gli auguri. Esatto, si esibirà il gruppo vocale strumentale Musica Nova di Levanto, diretto dal maestro Aldo Viviani e verrà presentato un repertorio natalizio di varie epoche storiche con brani particolari. Ecco, il gruppo vocale strumentale ha proprio diciamo la caratteristica di presentare sempre dei repertori molto particolari e studiati e ben eseguiti. Protagonista del concerto sarà l'organo della chiesa che è stato anche recentemente restaurato. Esatto, sarà l'occasione per sentire nuovamente l'organo Veggezzi Bossi, un organo a trasmissione pneumatica che l'anno scorso è stato restaurato. Ci sarà il maestro Pasqualini che accompagnerà all'organo il coro e si esibirà anche in un piccolo repertorio organistico di musica organistica. Tutti sono invitati a partecipare? Assolutamente, penso che sarà proprio il momento per chiudere il tempo di Natale e ritrovarsi per farsi gli auguri. Grazie. Grazie.